Mi chiamo Alida, sono referente medica di Medici Senza Frontiere su Geo Barents, alla nave di soccorso impegnata nel Mediterraneo. A bordo ci sono 439 persone, di cui 25% minori, tutti stanchi e stremati dal lungo viaggio in mare e dalla permanenza in Libia, caratterizzata da violenze e torture. Il risultato delle consultazioni mediche sono stati traumi minori, malattie croniche e da questo si è aggiunto anche un malessere generale causato dalle brutte condizioni meteo che abbiamo incontrato nel nostro percorso. Siamo ora in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare queste persone e dove ci possa essere un'adeguata presa in carico per ciascuno di loro. Siamo ora in attesa di un porto sicuro. Siamo ora in attesa di un porto sicuro.